Riprende il nostro post prevenzione oncologica senologica territoriale, territoriale per il nostro territorio, per Agropoli e per il Cilento. Abbiamo fortemente voluto ma devo ringraziare, stima e ringraziamento ai nostri due angeli custodi, il professore Antonio Santoriello e la dottoressa Rosa Sala che hanno accettato di collaborare e contribuire a questo progetto affinché le donne del territorio vengano visitate in modo gratuito. Le donne vulnerabili, voglio sottolineare vulnerabili, perché questo progetto è per coloro che non possono affrontare spese sanitarie. Poiché il nostro territorio ha sete e ha digiuno di questi progetti, noi volontari abbiamo voluto fermamente la ripresa di questo progetto. Un ringraziamento speciale a colei che ha voluto e ha fatto sì che si realizzasse questo sogno a Alfonsina Franco in memoria dell'Avvocato Savero D'Ambrosio, che durante le serate di beneficenza abbiamo raccolto dei fondi per acquistare l'ecografo e quindi lo strumento che ci permette di fare questo progetto. Da oggi, almeno una data ogni mese, avremo le visite gratuite per tutte le donne vulnerabili. In effetti è un programma di sensibilizzazione, non è un programma di diagnosi precoce. La nostra presenza qui è giustificata solo dal fatto che abbiamo intenzione di creare una consenso su un'informazione diffusa a tutta la popolazione, grazie alla Croce Rossa italiana, per fare screening e per fare prevenzione, quindi diagnosi precoce. Questo significa che noi non ci sostituiamo assolutamente a quelle che sono i mezzi e le metodologie di screening vigenti nella nostra regione, anzi il nostro compito è quello di sensibilizzare le donne ad effettuare il percorso di screening che viene attuato dall'ASL, in tutte le donne dai 50 ai 69 anni, con il programma di mammografia di screening. Ove mai ci fosse necessità di controllare i pazienti al di sotto di questa fascia d'età non comprese nello screening, noi siamo a disposizione per fornire un supporto tecnico e diagnostico per fare diagnosi precoce, come dicevamo. I campanelli d'allarmi sono legati soprattutto alla familiarità e all'obesità, che sono i due fattori principali di rischio di cancro della mammella. Poi c'è il discorso ambientale, ma in queste zone non dovrebbe avere un senso compiuto, se non in alcune zone della campagna dove l'incidenza di cancro della mammella è notevolmente aumentata per fatti ambientali. Voglio ringraziare la Croce Rossa italiana, sezione di Agropoli, e la Presidente Gianna Infante per questo encomiabile progetto. Io sono la mamma di una ragazza che ha avuto un tumore al seno all'età di 34 anni. È molto importante fare ogni sei mesi un'ecografia e almeno una volta all'anno una mammografia, perché il tumore al seno, preso in tempo, nei tempi giusti, può portare ad una guarigione. La prevenzione, sappiamo tutti, in questi casi particolari è fondamentale, e quindi una lodoletta dell'iniziativa va sostenuta, va implementata, e quindi ringraziamo veramente la Croce Rossa per l'impegno, che è profonda, non solo in questo campo, ma a sostegno della città. La città di Agropoli, come tutte le comunità, hanno bisogno delle associazioni di volontariato come questa, che danno un contributo molto importante alla vita sociale, e quindi un ringraziamento ancora forte a loro per l'impegno che ci mettono.